23 sì che c'è solo che la porta dovevi inserire i tarotti che taroccata no la cinese ma salva prima di andare vuoi sentire un trucco visto che ti capita incubus vuoi sentire un trucco per ucciderlo allora aspetta che si bossa e io dico e devo ancora preparare oh allora oh no mi manca un talismano oh no cosa ti manca fammi prendere colpi ecco aspetta prima dello scontro finale esaurisci tutte le munizioni e quindi arrivi in battaglia senza proiettili tutti i limiti a curare l'erri e incubus caldrata era dopo pochi attacchi quindi praticamente non da solo attacchi di cosa eeeh apapletici poverino ha attacchi di aspetta questo è il trucco come quello del fantasmino di sibil che non funzionava cosa è scritto così ma allora è meglio che vai con le munizioni comunque ti capita incubus perchè hai scelto hai toccato il finale buono più buono più ma anche guarda ma beh si ha preso lo stupido allora aspetta aspetta e James corre al rallentatore nel 2 e devi farlo partire da un po' più indietro da qua no no siamo pronti stiamo registrando carini stiamo facendo nooo volevamo dire che eeeh per salvare caffman non è necessario cioè è necessario fare tutto un procedimento che però abbiamo dovuto tagliare eeeh quando nel montaggio perchè occupava troppo quindi per salvare caffman non è cioè non è solo necessario salvarlo dalla scimmia che lo voleva stuprare ma anche ma anche salvare e andare a fare tutto un percorso o andare a cercare chiavi eccetera eccetera comunque noi abbiamo trovato quella parte ma l'abbiamo salvato tutto qua scusate per la scarsità di qualità del video ma quando comincia a scarciare la memoria si vede e si sente anche è un po' più bassa perchè sennò what you're talking about non sono in vena e nemmeno in arteria lol ma io l'ho finita la brioche ma io l'ho finita la brioche ma io l'ho finita la brioche ma io l'ho finita ma allora ma perchè capite male è vero ho mangiato una banana e con banana intendo il frutto intendo il frutto quello che mangiano i cimi a parte quella che violentava caffman ma io l'ho finita la brioche ma io l'ho finita la brioche colore oddio che cosa avevo detto però la parola è quella comunque per scattore ok sarge chiamatemi quando daila ha finito di quanto è la perale e blatterare ed Тыna teare ed il 얼ace estens Ora mi sono fresa Ma sto scherzando Ma non si può scherzare Sto scherzando Io non mi sono fresa Sto scherzando Sto scherzando Don't worry be happy Allora, lei fa la nonna Ma dove arriva No, don't worry Ma quando arriva Quello ho violentato da una scimmia Scusate di decolino Crepaventia! No, ha avuto un colpo atletico! Ah, eccolo qua! Un scimiotico! Gli ha sparato! Cap, ma se la faceva con Dalia? Non abbiamo tivi di spagnia di te! You can't die forever! L'avviso di Skype sotto! Sì, tanto poi lo taglio anche quello! Cose che ne capitano dai! Ma sai quante volte è successo mentre registravamo? Quindi tanto... Faci! Faci messaggi! Agapotti! E' cascata! Ti sei fatta male Dalia! Perché ci sei cascata? Ok, era pensi ma lo so! Stop it! No, senti! L'allentatore! Mola bottiglia ma anche il bersaglio! Ma che liquido c'è dentro? Ma che liquido c'è dentro? Un liquido che fa male! Ah! No, no! No, no! E' ketchup! No, no! No, no! No, no! Adesso tranquilla! Fra cent'anni ci arriviamo! Fra cent'anni ci arriviamo! No! Hai mischiato i bianchi quel colorati! Tragedi! Oh! Che cosa ha fatto? Che cos' še questa?! Non so l'avevo nella tavola Dalià cavolo, riti! Che ad esempio mori! Vabbè ho spoilerato! Diciamo quello che accadrà fra pochi minuti! Cosa st'è succedendo? Prova! sono una cittima papala che non è più tanto bello e non è meno da far falso e la madonna bene ma mi devo mi dovrò messare concentrazione oh no hanno bruciato Dahlia concentrazione concentrazione se fosse stata una scimmiavolante vi, vi 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 vi! ahh ho capito Della serie che ho già finito i colpi perchè ne avevo 3 in croce Dai 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 Dove sto andando? Sto andando? Sto andando a farmi non poter Lo sai ma io non ce l'ho mai avuta la mira Dove neanche la croce Ecco E' un elettricista E' un elettricista Stiamo recitando Mori mi tu Mori da farmi Mori da farmi Aiutami di camminare E ho finito anche questi Yeee Vedete ci siamo ancora Vede Credo di si Dai dai Mori da Sei a nempa pazzampa bene Diciamo Scorri scappa c'è il Nemesis Scorri scappa c'è il Nemesis E' un ilettricista 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 Dai che gliela fa Daiiii No io mi sporo nello stomaco E' un ilettricista E' un ilettricista